Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A11 si viaggia rallentati in direzione Pisa per traffico intenso tra Prato Ovest e Capannoli. In A12 traffico rallentato tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Sud. In FIPILI segnalata coda per lavori tra Ginesta Fiorentina e Empoli Est in direzione Livorno. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. In A1 traffico congestionato e coda in aumento per veicolo in fiamme in direzione Roma tra Firenze Sud e incisa Reggello. In direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il Vivio con la variante di varico Baccheraia e Aglio. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze e Comune di Firenze.